Ciao a tutti ragazzi sono Fakos Game Over e bentornati su Drago Ball Legends Oggi ragazzi andiamo a pulare ragazzi nel van di Janemba Ultra Uscito Vi voglio ringraziare il cuore ragazzi per il quadro di 2000 iscritti E ci tengo di ringraziarvi che mi avete dato tutto il vostro supporto Per questi anni mi avete dato fiducia e per ringraziarvi ragazzi vi avevo messo anche per lo speciale ragazzi per i 2000 iscritti Ed ecco qua Intanto ragazzi che andiamo a pulare è tornato il van di Vegito Super Saiyan Brut Ma intanto non ci vado a pulare prima o tanto Vabbè c'è anche quello di Super Gogeta che non ha molta importanza Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto premete la campagna delle notifiche per non perdervi altri video pur ragazzi Per i gazziavi vi porto questo speciale dei 2000 iscritti Come vedete ragazzi sono riuscito a famarmi raga Dopo da un cassino raga Bordello di Crono Crystals Finalmente ve lo porto Allora andiamo a vedere Banne ragazzi Che però Che dico la verità ragazzi Questo Banne fa cagare Non è un gaga raga Sono Gianne Bauta Non è niente male Ho visto pure i kit Tutto è molto forte Allora abbiamo questo set Poi Kibu Broly Piccolo Babbè insomma Raga Questo Banne fa cagare Come vedete ragazzi Sono a 21000 Crono Crystals Raga Che finalmente ho affammato ragazzi Con tutte botte e culo che ho fatto Quindi ragazzi Vado le ciasce E iniziamo Comunque ragazzi Fatemi sapere sotto nei commenti Se siete riusciti A trovare oppure voi Questo Giannebba Ultra Raga Voglio sapere sotto voi Nei commenti E ho saputo pure raga Che hanno pure modificato Pure un po' L'animazione E E Attenzione Cominciamo bene Spazio Cospera del Drago Vi dicevo Hanno modificato Broly Animation Ma mi sa che è possibile Pure che quadro è asciuta Che speriamo Se è possibile o no Pur dorato Super Saiyan Fattato Subito Iniziamo E Vediamo ragazzi Come andrà Di sicuro Vediamo un po' Se è capitato qualcosa di buono Ma vediamo Che già ragazzi Raga Ci avevo messo Tutto il casino Prima di portare Raga Sto pull Ho veduto Fa mamma mia colpore Il crono Raga Ma C'è vutto Pocca Pocca È un casino Hanno giusto pure Ragazzi I due zecca Io ero I super Gogetta Green E il super Gianneba Quello Red Ragazzi Ma i kit Di qua Gianneba Ultra Porca vacca Che scopo Una strike E poi BAM Va dritto A segno Allora Abbiamo capito Che non abbiamo Trattato Raghe Quindi Ultra Ultra Tier Per due Vediamo ragazzi Se saremo Fortunati A trovarlo L'animazione È stato Poi Un nuovo Spreco Vediamo Se codo Se codo Con l'Utta Si andrà meglio Come animazione E vediamo Un po' Ok Siamo Suna Ma è crescuta E di nuovo Sprego Super Saiyan Vediamo Ok Niente di che La tira Una Camina Capisce Il pareggio No Super Saiyan Di tazzo Il pello Con il pugno Il drago Ok Va bene Se non riusciamo A trovare Ragazzi A questo Primo Giro Ce ne faremo Un altro Ragà Però Non voglio Scegliere troppo De capo Ragà Sapete Che Porco Giù Da Quanto C'ho Dotto Piegare Per Attenzione Ma Mi so Cagato Sotto Pensavo Che era Un fake Out Da Spacchi Che In me C'era Quei Frise Va bene Non ce L'avevo Ragà Ma Me L'ha Fatto Tu Mi so Cagato Sotto Sì Buono Madonna Ecco Qua Ragà Proprio Gianemba Che Vi Stavo Parlato Tag Che Ce L'ho Ovviamente Anze Cagate Vabbè Ragà Abbiamo Totto Sto Frise Che Mi Mancava Giustamente Ma Va Bene Ah no Scusate Era quello Proprio Sbagliato Io Vabbè Ragà Terzo Step Vediamo Siamo Siamo Fortunati Dopo La Fì Pocca Vacca Boia Ragà Vaffan Cuore Ragà Ci avevo Quasi Creduto Ragà Ve lo Giuro Proprio Pensavo Che era Un fake Out Invece Mi ha Fatto Cagassotto Vabbè Speriamo Ragà Che Questi Jumps Che Anzi Non capita Ok Ce lo vedo Ovviamente Le pod E' pur Rosso Schiatta Ecco No Di nuovo Supersegna Di tazzi Velo Due volte Pugno E tra Quei Buonanotte Ma Io Spero Di Vere Ragà Una Badac In Mesh E La Tax In Mesh E Cui Raga Avevo Visto I video E pull Dagli altri Youtube Raga Che Avete Pensate Pure Che Quando C'è Broly C'è Una Sorte Di Bello Gogita E Come Vi Dicevo Quando Nel Film Raga Da Gubo Super Broly Fanno Scotto Con i pugni E si Roppe Lo Tipo Lo Spazio Tempo Ecco Raga E Quello Ragà Ti Manda Canimash La Tanks E Vabbè Ho preso La Broly Che Ci Può Che Stare Vabbè Sto Gi Non Abbiamo Tratto Niente 4 Free Vediamo Ragà Se La Sorte Ad Meglio Quindi Ragà Se Ci Capita Ragà Tipo Con La Broly Mesh Con La Spaccatura Dello Schermo Dò Spazio Tempo Per Modo Di Dire Andiamo Un po Quindi A Mac Ristutto E 3 Pod Vediamo Pull Dorato Di Caschiata Ma qua raga Non ci credo Che mi ero cagato Sotto Per Quei Free Vabbè Almeno Me lo so Portato A casa Un personaggio Che mi Mancava Giustamente Non è Che però Mi Interessava Ma Ma Va Bene Lo stesso Allora Andiamo Un po Vabbè Dai Se Schifo Vabbè Raga Primo Giro Non è Andato Molto Bene Ma Possiamo Farci Altri Giri Allora Aspettiamo Un po Ok Vabbè Non so Fatto Tausa Ah Sì Seste Vabbè Dunque Proviamo Un altro Secondo Tettativo Vediamo Poi Ragazzi Se Siamo Molto Più Fortunati Di Così Dunque Ragazzi Fatemi Sapere Nei commenti Quale animazione Vi so Capitate Quale copia Avete Trovato Di nuovo Un vecchistuto E 5 Poder Fatemi sapere Ragazzuoli Nei commenti Quale animazione Se siete riusciti A trovarlo Oppure Qualche personaggio Che mi mancava Qualche lepre Ecc 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 Eppur Rosso Che è la terza Volta Che è uscito Non è a passo Broly Ovviamente Freeze E schiata Vediamo Un po Ragazzi Sto Gianne Bauta È molto Forte Lotto Che bello Tutto Animazione Mi aspettavo Che quando L'etapa Di animazione Usciva Quello Gras E poi Faceva L'animazione Un po Come Fighters Che era Bello Vabbè 14 Stelle Broly Vabbè Tax My Assist Va bene Vabbè Ragazzi Facciamo Una cosa Ok Non è andato Bene Utter Hitspe 2 Facciamo Così Ragazzi Se esce Un'animazione Io mi coppo Gli occhi Perché ragazzi Riesco Riconoscere I personaggi Dai suoni E vi dirò Fatemi Sapere Nei commenti Ragazzi Qualcuno Ci ha Zecato Mamma mia Che schifo Ti pego Dammi Una Badak O taxi Animation Vieni fuori Badak Non viene fuori Va bene Attenzione C'è chi Damma Forse Ragazzi Riusciamo A trovarlo Vediamo Ok Ragazzi Voglio fare Una cosa Mi coppo Gli occhi Ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Ragazzi Vabbè Non potete Vedere Dalla Face Conosco Conosco Il suono E di nuovo Gire Jaco E una Spark E di nuovo No Anzi E metacooler Veget Extreme Gokku Sprezzaglio Secondo Il velo Cooler Vabbè Niente di che Queste fasce Di sicuro Il Spock E Peridol Vediamo E infatti Avevo ragione Avevo ragione Avevo ragione Vabbè Anche sto giro Ha dato male Vabbè Un altro tentativo Ragazzi Proviamo a vedere Se siamo fortunati Vediamo ragazzi Se A sto giro Non è adatto bene Però Gioco Mi puoi dare Animazione Con tutte Ste Cronoc No No Ma fai su serio Mi dai Una pod Che Meda Di Animazione La dovrai Schipare Se fai Schifo Beh Sì Questa Fa schifo Cronoc Così Aspetta Puldorato Scherzo Pensai A Forse Non sarebbe Che Schifo Vabbè Niente di che Ragazzi Dunque Quanto Siamo Ah Vabbè Dieci minuti Ok Va bene Ragazzi Comunque Sia Fatemi sapere Nei commenti Se a me Non ragazzi C'ho azzeccato No Mamma mia Che Menda Che Ragazzi Sto giro Sta Dato A schifo Di Canne Non è Non è Sta Dato Molto Bene Dunque Che Io 5 Stelle Oh Maga Va bene Che Si Ne Frega Free Ragazzi Secondo giro Non è Andato Bene Vediamo Se la Free Siamo Un po' Più Fortunati Allora Vorrei Una Buona Animazione Qualche Animazione Buona Ragazzi Spero Che Esca A meno Mamma mia Ragazzi Di Nuovo Su Sei Ragazzi Ma Di Nuovo Questa Animazione In Medo Vediamo Vabbè Ma Scio Backstream Ma Ragazzi Questa Fa Schifo Schifo Ragazzi Non voglio Vedere Chi Esce Oh Ok Omega Shadow Extreme Che Mi Magna Non ce Avevo E Che Ho Toto An Goku Su Sera Un Quarto Vabbè Quattro Dicis Pizzica O ci Credo Due Coppie Ma Iacide Vabbè Ragazzi Non è Andato Bene Ma Sapete Che Vi Dico Facciamo Il Tetsu Giro Perché Ragazzi Allora Gli assoluto è questo Abbiamo tolato Un freeze Final form Che Maccaba E abbiamo tolato Omega Shere Extreme Due copie Quindi Si può dire Che sta pure Bene Allora Però Gioco Non mi può dare Però Ste Animazioni Di Me Da Dopo Che Ho Appena Formato Tutto E Cronachrist Mi Dovesti Dare Qualche Animazione Buona Oh Mio Dio Che Andano La Tetta Spoto Mamma mia Che Schifo Tassi Una Scasa Ragazzi Vabbè Tu E Che Quattro Ai Minchia Ragà Oh Quattro Sparchi Che Fira Di Una Multi Ammazza Vabbè Vabbè Ragazzi Utter Rates Per Alla Sette Utter Rates So Che Hai Fatto Schifo E Che Non Mi Hai Fatto Tare O Che Che Però Vabbè Favore Fammi Trovare A meno Sto Genevra Ulta Che Me Lo Godo Bene A meno Vabbè Favore Non Voglio Sped Troppo Con Le So So Quattro Volte Ce Vedi Su Usciti A meno Tipo Quattro Quattro Volte Pur Rosso E Terza Volta Che Sto Lì Chi Ne Fise Hai Fatto Tu Ancora Mi Stai Scassando I Cazzo Slug Non Ti Voglio Però Raga Abbiamo Tato Genevra Ma È Quello Sbagliato Ma Va A Fare Moc È Di Nuovo Oh Ma Su Ruppi Palle Vabbè Raga Un atto Giro E Se Ne Vanno A Fani Voi Siamo Va Bene Quasi 15 Minuti Davvero Per favore Dammi Un'animazione Buona Gioco Per favore Fammi Contento Mi Fai Questa Gallo Ghiacciaio Ghiacciaio 5 Pod Ok Aspetta Badak Badak Ma Vaffanmo Ora Ragamè Non so Quattro Votrò Che Scegli Quattro L'animazione Questa Esce Broly E Cinque Vot E Vabbè Niente Broly Ovviamente Vabbè Esce Così E Vice Un'animazione Vabbè Ghiacciaio Ma Ma Un'animazione Buona Per fammi Troare L'Otta Sarei Più Contento Grazie Vabbè Zamasu Black Asist Mamma mia Che schifezza Che esce Raga Vabbè Quattro Cistare Chiss Vabbè Ragazzuoli Affì Vabbè Raga E' una Delusione De tutta Totale Non abbiamo Neanche Che Trovata L'Utta Nemmeno Una coppia Sua Potrebbe Pure Dammi Che so Pura Tax Inmeasho Bo Attenzione 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 Nuvaspidi Padre Questo Sifika Legge Zimited Ghiacciaio Goku Blu Oh Finalmente Un'animazione Buona Sesta Votta Pudorato Vabbè Attenzione Goku Pedi Tipo Pedi Vaffan Gulevici No Avito Che due Palle Savo Che avrebbe Pesso Raga Ma Raga Certa Votta Mi cago In mano Ma Giubbe Vabbè Un'altra Coppia Vabbè Nuvaspidi Vabbè Legge Zimited Dai Chi è Babbo Piccolo Dai Sifika E' Bello Mamma mia Raga Ce l'avevo Quasi Sperato Proprio Vabbè Quattro Stai Raga Sperate Qui dico Facciamo Un atto Giro E poi Basta Mi pare Raga Che siamo Quattro Giro Sì Mi pare Quattro Giro E se poi Non trovo Niente Mi fermo Qui Damma Non è Possibile Raga Raga Per quella Buona volta Che aveva uscito Gocobro Se pedeva Ah già L'ultima cosa Che avevo scordato Di aggiungere Guaiu Ma la settima Guaiu Settima volta Che esce Pula Dorato Ma Vabbè Ovviamente Raga Schipiamo Dato Fa schifo Non è uscito Una sega E' appuro Che ha Cagato I C16 Vabbè Raga Uta Rates Per 2 Dato Si sa Che non Esce Niente Vabbè Ragazzi Finiamo Questi giri E poi Chiudiamo Questo Video Che comunque Mi Grazie Stesso Che mi Avete Dato Per il Vostro Support Che A me Mi Interessa Di più Ci Siamo Ameno Portati A casa Due Personaggi Che Mi Maccavano Freeze E Quell'home Che Sce Rexting Sei Una Ruta Di Poi Coglioni Sare Voto Unifato Vaglia Un medico Un Rubo Cazzo Mi Porta Vabbene Vabbè Che Rezzine Belle Vabbè Eccolo Eccolo Qua Un Ado Yeee Malafrengo Terzo Step Ragazzi Quanto Siamo Vabbè C'ha nove Minuti Giustamente Ragazzi A te Posita Spera Quarta Volta Di nuovo Goku Ti prego Goku Devi Pede Io Di solito Non fudico Queste cose Però Devi Pede Per favore Fammi Cortetto Per fammi Trae l'uta Pedi Ti prego Perché Non pedi Porco Due Schifo Dai Che due Coglioni Dovevi Pede Ma che Palle Vabbè Vabbè Fani Moc Freak out Vabbè Mamma mia Che schifo Di palle Dovevi Pede Cazzo E Due Aditura Di Fake out Di Tu E Vabbè E Eh Sì Un'altra Volta Vediamo Questi Ultimissari Vabbè Due Stelle In più Vabbè Ragazzuoli A Fri E Poi Sare Di Sicuro È Tutto Finito Ma Non C'era Chi De Viva Ragazzuoli 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 ma troppo ma non è possibile che non perde basta sono tre volte che sono usciti questi mamma mia che schifo di menda di spiga ragazzuoli è un peccato purtroppo non siamo riusciti ne ragazzi delusione totale è un totale peccato ma ma sapete che vi dico ragazzi visto che mi avete dato supporto faccio il folle ragazzi sì 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 ragazzi sono folle ragazzi sono folle faccio di nuovo voglio riprovare ora io voglio cazzolo a trovarlo non è che sia molto ipotazio però poco due fammelo trovare però voglio portamelo a casa sto maledetto giannebba però poco due tutti quelli gli atti lo stanno trovando io non ho neanche ancora trovato e dai fammi contento gioco però raga sul mio canale non sono mai uscito portavo per trovare un ultra e per favore però gioco se mi fai col tetto fammelo trovare perché sennò mi metterai a scherare come un matto dai 16 diametro ma ragazzi vabbè questo vabbè questo è più schifo vabbè sette stelle ovviamente vai una rezza per due ne lo usiamo eh ok va bene 22 minuti vabbè per favore fammelo trovare nei video fammelo col tetto tra il gioco però toshio fammelo trovare dopo e poi dammi una badac una tax animation per favore perché devi fammi soffrire e buon dorato una nota e super stagno blu e ti fufuff ma che che ti strano macchia ti dici da mattone ma non è possibile la pura super stagno blu buonanotte non riuscirà mai proprio ma perché devo avere spigga di me da raga però pacca pacca che schifo va beh c'è 7 e lui mamma mia se perdeva raga porco giuda me non me lo trovavo ragazzuoli ultimo tentativo e poi basta che mi fremo questa volta ma dico su serio ultimi due giri e basta la terza e la fine mamma mia ma perché devo avere spigga mamma mia che schifo di spigga schifo di spigga schifo di spigga direi sì faccio una cosa schifiamo di tutta animazione un'altra volta è uscito una torta questo papo sei quello sbagliato zio cane porca vacca morta chi li vuoi spigare proprio un porco spino che si scoglie tanto forte la quinta volta spero di spigga guaiu eh ma qua guarda che mi esce netrax e niente adesso non c'è che meno 6 volte che è uscita questa animazione del meta neanche un'urta mi ha dato all'esco 4 di cistero ragazzuoli direi proprio che non l'abbiamo trovato giannebba ultra e vabbè va bene ragazzuoli io direi di cucude questo video e vi ringrazio comunque raga per aver guardato questo video fino alla fine siamo pure arrivati ragazzi a 6.000 comunque ragazzi vi ringrazio comunque quei ragazzi che a me non sono poi soddisfatto ho trovato due persone che mi mancavano se avessi trovato giannebba uta e buonanotte lo sei portato a casa che peccato che non l'ho trovato ma va bene lo stesso grazie che mi avete dato il supporto iscrivetevi al mio canale se non avete acqua fatto condividete con i vostri amici e premete la campanella delle notifiche per non perdervi altri prossimi video e noi ragazzi ci vediamo per un prossimo video ciao ragazzi